Le campane a festa della Cattedrale dell'Assunzione, un giro in Papamobile tra le 80.000 persone radunatesi in Piazza della Costituzione, una delle più grandi al mondo, ha introdotto l'incontro tra Papa Francesco e i Vescovi del Messico. Dopo un lungo momento di preghiera all'Altare del Perdono, il Pontefice ha pronunciato un discorso denso e programmatico, partendo dallo sguardo dell'amore nita che ci insegna che l'unica forza capace di conquistare il cuore degli uomini è la tenerezza di Dio. Con passo delicato, il Pontefice ha chiesto a tutti di non perdere tempo ed energie in cose secondarie, nelle chiacchiere, negli intrighi, negli sterili club di interessi o di consorterie, ma a chinarsi con amore materno sulle tante ferite dell'uomo contemporaneo e di denunciare con coraggio realtà come il narcotraffico. Le proporzioni del fenomeno, la complessità delle sue cause, l'immensità della sua estensione come metastasi che Dibora ha precisato, non permettono a noi, pastori della Chiesa, di rifugiarci in condanne generiche, bensì esigono un coraggio profetico e un serio e qualificato progetto pastorale. Tante le realtà evidenziate da Papa Bergoglio, dai migranti che corrono ogni rischio in cerca di una vita migliore, all'attenzione dei popoli indigeni e delle loro affascinanti culture, non di rado massacrate, alla missione della Chiesa e dei Vescovi, servitori e custodi dell'unità edificata sulla parola del Signore. A tutti Papa Francesco ha chiesto di spiegare le vere dello Spirito Santo, di non smarrirsi nella nebbia della mondanità, di vivere nella trasparenza e di non essere mai impermeabili agli sguardi di quanti cercano Dio, perché il cuore dell'Apostolo non è fatto per piccole cose.